La vita aliena si dovrebbe cercare sui pianeti in orbita intorno a stelle che stanno morendo. Questo è quello che sostiene un team di astrofisici del centro americano Harward che sta per pubblicare uno studio in questo senso sul Royal Astronomical Society. La ricerca indica che è più facile rilevare la presenza di elementi che testimoniano la vita come l'ossigeno nell'atmosfera dei pianeti in orbita intorno alle stelle che stanno per spegnersi rispetto a pianeti che orbitano intorno a stelle invece vitali. Nella ricerca di queste firme biologiche potremmo chiamarle le prime stelle che dovremo studiare sono le nane bianche. Quando una stella come il Sole ad esempio muore soffia via i suoi strati più esterni lasciando dietro di sé un nucleo caldo chiamato appunto nana bianca. Questi oggetti hanno le dimensioni del nostro pianeta, si raffreddano lentamente ma possono trattenere il calore in maniera sufficiente per riscaldare un pianeta vicino per miliardi di anni. Rilevare indizi della vita su eventuali pianeti in orbita intorno a queste stelle sarebbe più facile per le dimensioni della nana bianca. In pratica le atmosfere di esopianeti si analizzano quando transitano contro il disco della loro stella eclissandola parzialmente. In questa fase di eclissi l'atmosfera del pianeta assorbe un po' di luce dell'astro e dal modo in cui assorbe la radiazione è possibile risalire alla sua composizione. Se la stella è piccola quasi quanto il pianeta, usare questa tecnica diventa più facile perché durante il transito il pianeta blocca gran parte della luce dell'astro e in questo modo diventa più semplice individuarne la presenza di elementi chimici che testimonirebbero della vita nell'atmosfera del pianeta. Gli astronomi sono particolarmente interessati a trovare l'ossigeno perché è un sintomo della vita così come noi la conosciamo in quanto sulla Terra questo gas è prodotto dalle piante attraverso la fotosintesi. Si pensa che scandagliando fra le 500 nane bianche più vicine al nostro pianeta si potrebbero individuare uno o più mondi abitabili. Prima che una stella diventi una nana bianca si gonfia in gigante rossa travolgendo e distruggendo eventuali pianeti vicino questo è il destino del nostro pianeta fra 4 miliardi di anni e mezzo. Pertanto un pianeta dovrebbe arrivare nella zona abitabile dopo che la stella si è trasformata in una nana bianca. Un pianeta potrebbe ad esempio trasformarsi dalla polvere e dai residui di gas oppure migrare verso l'interno da una regione più periferica. Insomma le ipotesi sono tantissime. Si continua a cercare la vita e le si pensano un po' tutte per arrivare finalmente a questo risultato che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare. Grazie, alla prossima. Grazie.